I carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Nacca, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovanissimo albanese, classe 1999, che da anni dimorava nel capoluogo di regione. Il giovane è stato fermato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Pizzoli agli ordini del capitano Nacca, appunto, mentre erano impegnati a pattugliare la frazione di Cansatessa nell'ambito dei controlli che sempre fanno. Il ragazzo era a bordo di una Fiat 600 bianca, lungo via Martin Luther King, una macchina che è stata notata uscire con fare sospetto da una zona boschiva poco distante. All'atto del controllo, il conducente ha manifestato subito nervosismo nei confronti dei militari, un atteggiamento sospetto alla vista dei militari, ha tentato infatti di occultare sotto il sedile della macchina un involucro in cellofan, poi ha risultato contenere oltre 57 grammi di cocaina. Sottoposto a perquisizione personale, aveva in tasca 560 euro, probabilmente provento dell'attività illecita svolta. All'interno dell'automobile, invece, sono state trovate anche ulteriori sette dosi di cocaina. Nella sua abitazione, all'interno di una credenza del soggiorno, sono state trovate altre due dosi di cocaina e una di marijuana. I carabinieri proseguono anche le indagini, al fine di accertare i canali di reperimento dello stupefacente, di cui l'arrestato non ha voluto fornire nessuna indicazione utile.